Il commissario Figliuolo poi si è spostato qui a Conselici, all'Unigra, una delle aziende simbolo dell'alluvione. Pensate, l'acqua qui è arrivata il 18 maggio, ha raggiunto i due metri e mezzo di altezza e non se n'è andata per oltre due settimane. 800 lavoratori hanno dovuto interrompere le loro attività, la produzione sta riprendendo soltanto in questi giorni, quindi dopo due mesi, ma in realtà non si sono mai fermati perché si sono spesi in tutti i modi possibili per aiutare a drenare l'acqua, a proteggere la vezzola e a liberare il loro stabilimento. Figliuolo l'ha visitato insieme ai titolari, vi facciamo sentire il suo commento e poi anche la voce dell'amministratore delegato Gian Maria Martini. Poi la linea può tornare allo studio. Qui si vedono i segni della devastazione, ho potuto vedere dal filmato, ma in realtà l'avevo già visto da altri filmati mandati dalle tv, dai media. E si vede anche l'operosità, l'operosità dei romagnoli, l'operosità degli italiani. Mi ha molto colpito il fatto che tutte le maestranze si siano messe a disposizione insieme alle parti sociali e questo è un bel segno. L'incontro è andato molto bene e significa molto, significa una maggiore consapevolezza di fatto dell'entità, del problema che ci ha travolto e anche una maggiore consapevolezza del territorio. La cosa che più ha impressionato è il pragmatismo che il generale ha di fatto. Quindi di fatto questo ci conforta molto, perché noi siamo gente che tendiamo a essere molto pratici. L'importante è non perdersi d'animo e continuare, perché la strada è ancora molto lunga.